L'Andrangheta del Cosentino, oggi con un'operazione della Polizia di Stato che ha seguito 17 misure cautelari nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti e legati vicino, secondo gli inquirenti, al potente clan dell'Andrangheta dei Fora Stefano, operante a Cassano e nel territorio della Sibaritide. I provvedimenti sono stati emessi dal GIP del Tribunale di Catanzaro su richiesta della Direzione Strettuale Antimafia. Nell'ambito dell'operazione, oltre alle 17 misure cautelari, sono stati eseguiti sequesti di società e imprese per un valore che supera i 10 milioni di euro. I reati contestati alle persone coinvolte nell'operazione sono associazione per delinquere di stampo mafioso, riciclaggio di denaro, estorsione e intestazione fittizia di beni. Le indagini sono durate tre anni e sono state condotte dalla squadra mobile di Cosenza, guidata dal vicequestore Fabio Catalano e dal servizio centrale operativo della Polizia e dirette dal procuratore Nicola Gratteri, dall'aggiunto Vincenzo Capomolla e dalla PM Antimafia Alessandro Riello. Nell'operazione sono stati ricostruiti attraverso dichiarazioni ed intercettazioni diversi episodi estorsivi e intimidatori, in particolare le vessazioni subite dai titolari di un'azienda di trasporti che è stato spogliato dei mezzi e sostituito nei rapporti che aveva con un'altra azienda a beneficio di un'impresa controllata dalla Cosca. Gli uomini imponevano le proprie ditte di riferimento per l'autotrasporto, ma anche per i prodotti ortofrutticoli con estorsioni, intimidazioni e attività di intestazione fittizia di beni a soggetti compiacenti.